Ben trovati al Notice di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme come di consueto agli appuntamenti in calendario per i prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che la Proloco di Salzano è lieta di invitarvi alla 29esima edizione della Festa della Zucca che si svolgerà fino al 3 novembre. Un appuntamento davvero imperdibile che celebra questo splendido ortaggio che qui si può ammirare in tutte le sue forme e colori ma soprattutto degustare in mille modi. Dai fantastici primi e secondi piatti per terminare con oltre 30 tipi di dolci diversi sempre a base di zucca. Infine concorsi per le migliori zucche, spettacoli e intrattenimenti per grandi e piccini. Mostra e vendita di prodotti artigianali e agroalimentari. Appuntamento dunque a Salzano con la Festa della Zucca. Per maggiori informazioni e per il programma completo della manifestazione consultate i social dell'evento. Il comune di Montebelluna e il Memoriale Veneto della Grande Guerra presentano il reopening della mostra Spirito e Corpo, Fede e Alimentazione in Guerra. Il percorso espositivo, interattivo e multisensoriale rappresenta un'occasione per riflettere su come fede e alimentazione raccontino la storia dell'umanità da molteplici punti di vista. Propaganda, superstizione, spiritualità, fame e logistica del cibo. Temi che possono costituire chiavi di lettura importanti per interpretare i conflitti di ogni tempo, anche quelli del nostro contemporaneo. In dialogo con l'allestimento permanente sono esposti numerosi reperti provenienti da collezioni private e prestigiosi musei, documenti d'archivio e immagini storiche. La mostra è visitabile presso il Memoriale Veneto della Grande Guerra di Montebelluna negli orari di apertura della sede. Nel 1963 nacque il mito Lamborghini. All'inizio degli anni 60 la Ferrari dominava già da un ventennio la scena automobilistica internazionale. In quel periodo, 20 km più a nord di Maranello, un altro mito a quattro ruote stava prendendo forma, confermando l'Emilia Romagna quale patria dei motori da grande prestazioni. Dopo aver raccolto successi e miliardi fabbricando trattori, l'industriale Ferruccio Lamborghini decise di puntare al settore delle autosportive, lanciando la sfida al cavallino rampante. Come simbolo fu adottato il toro, in quanto segno zodiacale di Ferruccio Lamborghini, richiamato poi in tutti i principali modelli della casa bolognese. La vita è troppo breve per i rancori a lungo termine. Elon Musk La curiosità del territorio di oggi ci porta a scoprire il teatro romano. Siamo a Verona. È uno dei teatri romani dell'Italia settentrionale meglio conservati. Almeno dal X secolo, sui suoi resti vennero costruite case e chiese che col tempo coprirono completamente l'edificio scenico. Lo scopritore del teatro fu Andrea Monga, ricco commerciante, che dopo aver acquistato l'intera area condusse estesi interventi di demolizione e scavi. Il complesso si estendeva con terrazzamenti successivi dalla riva del fiume alla cima del colle e fu realizzato verso la fine del I secolo a.C. era coronato sulla sommità del Corle da un tempio, i cui resti sono stati rinvenuti nel 1851 durante lo scavo per le fondamenta di Castel San Pietro. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.